due fidanzati stanno andando in auto a un certo punto a lei viene una voglia incredibile di fare l'amore dai fermati tesoro dai caro fermati dai che voglio far l'amore dai ti prego voglio far l'amore ma dai ma come facciamo ma ci vedono tutti ma no dai ci mettiamo sotto la macchina e facciamo finta che c'è una perdita dell'olio che stiamo controllando e allora lui si convince si ferma da una parte si spogliano vanno sotto la macchina e cominciano a far l'amore presi dalla cosa però non si accorgono che a un certo punto arriva un poliziotto e gli fa raga ma scusate ma che cazzo state facendo e guardi noi stavamo controllando la perdita dell'olio della macchina guardate la prossima volta è meglio che controllate i freni perché la macchina è dentro il posso se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ha dimenticavo è gratis